Buongiorno ragazzi, siamo qua della TS Landriano Pavia, riuniti perché andiamo a scioperare anche alla manifestazione che c'è a Roma, andiamo tutti quanti, andiamo a scioperare venerdì 2 per mandare un messaggio forte e chiaro ai nostri datori di lavoro, che vogliamo la trasparenza, la sicurezza di avere una busta paga chiara che così possiamo portare il pane a casa delle nostre famiglie e poi ovviamente ci uniamo alle file del nostro sindacato che ci chiede andare a Roma per ovviamente questa volta mandare il messaggio al governo, il quale praticamente tutti questi mesi ha aumentato leggi repressive contro le lotte dei lavoratori e quindi ecco perché andiamo a chiedere, anche andiamo a chiedere un salario minimo degno per i lavoratori, in più la sicurezza, stiamo chiedendo la sicurezza nel posto di lavoro perché non è possibile andare avanti così con una busta paga che non ha cresciuto tutti questi anni, però le bollette sono da pagare, le bollette del gas, della luce, tutto quanto è aumentato la benzina, ecco perché noi abbiamo bisogno di farle sentire a questo governo che noi ci siamo, che andiamo a lottare e questo sabato siamo in piazza lì a Roma, tutti quanti ragazzi, forza Sikovac, forza, tocca a uno, tocca a tutti, ok ci vediamo